Per i nazionalisti economici, chiamiamoli così per carità di patria, ogni volta che una impresa italiana viene acquistata da un imprenditore o da un fondo, che italiano non è, si tratta di una tragedia. Nei giorni scorsi questo è avvenuto con Italo, una delle poche grandi imprese nuove sorte negli anni scorsi nel nostro paese. In realtà l'acquisto da parte del fondo americano Global Infrastructure Partners per quasi 2 miliardi di euro conferma le intuizioni di chi ha fatto nascere quell'impresa dal nulla e ne corona il successo. È per certi versi sorprendente che sia proprio il nostro paese, che di solito è ostile alla concorrenza, ad aver avuto per primo un treno privato ad alta velocità. Un anno prima della nascita d'Italo un piccolo imprenditore e Giuseppe Arena aveva provato a insidiare il monopolio ferroviario sulle tratte locali e ne era uscito con le ossa rotte. L'Europa spinge nella direzione di un'apertura del mercato ferroviario con difficoltà e spesso contrastata dagli Stati Nazionali, ma forse proprio per questo, forse perché quella spinta sta finalmente per produrre risultati anche in altri paesi, Italo ha fatto gola a un grande investitore. Non dobbiamo essere tristi perché un'altra impresa italiana se ne va, Italo continuerà a offrire i suoi servizi in Italia, ma soprattutto forse dovremmo imparare che quando le regole consentono agli imprenditori di provarci, anche nel nostro paese è possibile sviluppare idee e cose nuove, magari arrivando persino prima degli altri.